Musica Buonasera dal Tg Maxi in apertura una nuova brutta pagina di cronaca tragedia a Chieti dove un anziano medico in pensione Paola Bruzzese è stato ucciso a coltellate. L'omicidio è avvenuto in via Eugenio Bruno nella sua abitazione ad ucciderlo con un fendente al torace l'ex fidanzato dell'abbadante romena. Mi diceva, meno male che ho trovato l'abbadante che mi sta dietro. A parlare un vicino di casa di Paola Bruzzese, 92enne, morto a coltellato nella sua abitazione di Chieti, ad uccidere l'anziano medico pneumologo in pensione l'ex fidanzato della sua abbadante. Proprio quella abbadante della quale Paola Bruzzese era così entusiasta. Questa mattina Johan Damir, romeno di 24 anni, residente a Casa Languida, si è presentato nell'abitazione dell'anziano in via Eugenio Bruno per avere l'ennesimo chiarimento con l'ex fidanzata, sua connazionale di 28 anni. Insieme alla donna c'era anche l'attuale compagno. È scattata così una lite nella quale è intervenuto anche l'anziano. E proprio nel tentativo di difendere la donna, l'uomo è stato ferito a morte da più di un colpo di arma da taglio. A quel punto il romeno si è dileguato a piedi. I carabinieri intervenuti sul posto si sono subito concentrati sul giovane, rintracciato a qualche chilometro da via Eugenio Bruno. Ora il ragazzo è stato arrestato per omicidio. Il comandante provinciale dei carabinieri di Chieti, Giuseppe Cavallari. La persona entra dentro casa e cerca di avere un contatto anche fisico con quella ragazza. Il vecchio poverino si frappone e lì c'è una piccola volutazione e viene colpito. Adesso neanche vi posso dire con certezza con che arma. Comunque è un'arma da taglio. Al petto? Al petto sostanzialmente sì. Ed è deceduto. Vi posso aggiungere che questa persona... Un solo colpo comandante? No, più colpi però non vi sappiamo ancora dire esattamente noi. Vi posso aggiungere che questa persona è già stata fermata. Noi ce l'abbiamo già stata di arresto. A coordinare le indagini il PM di Chieti Andrea Dell'Orso che ha disposto per sabato mattina l'autopsia sul corpo di Paolo Abruzzese. L'autopsia sul corpo invece di Vincenzo Cocchini, il pensionato di 76 anni di Loreto Prutino, ucciso ieri mattina dal figlio Paolo, 47 anni, ha confermato che l'uomo è stato strozzato. L'esame autoptico è stato eseguito questa mattina dal medico legale Cristian Dovidio. L'omicida è stato rinchiuso nel carcere San Donato di Pescara in attesa di essere interrogato dal GIP. Picchia il padre distrugge la sua abitazione, arrestato in flagranza di reato dai carabinieri, un uomo di carsoli di 40 anni con l'accusa di maltrattamento in famiglia, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo che vive in casa con il padre, al termine di una discussione, ha picchiato selvaggiamente l'anziano che ha dovuto fare corso alle cure del pronto soccorso dell'ospedale di Avezzano con una prognosi di 15 giorni. Durante la colluttazione ha inoltre danneggiato gli arredi dell'appartamento, riducendoli in frantumi e gettandone alcuni pezzi in strada da una finestra. Sanità, i conti non tornano, secondo il consigliere di Sinistra e Libertà. Ad oggi ha dichiarato Caramanico, permangono aspetti critici e non ancora risolti. Il consigliere regionale di Sinistra e Libertà, Franco Caramanico, rimane in disaccordo con il presidente della regione Gianni Chiodi in merito alla diminuzione del disavanzo nella sanità e più in generale sui conti. Per Caramanico, appunto, i conti non tornano. In una conferenza stampa presente il segretario regionale del partito Gianni Melilla, il consigliere ha sottolineato che permangono nella sanità aspetti critici e ancora oggi non risolti. Ha citato ad esempio il costo per il personale dipendente, rimasto elevato rispetto alla quantità delle prestazioni prodotte, e ancora l'aumento del salto di mobilità e della spesa farmaceutica convenzionata, nonostante il consistente investimento regionale fatto negli anni sulla medicina generale. Per quanto riguarda i privati, per il consigliere d'opposizione si è avuto un aumento delle tariffe del 30% senza, contestualmente, un aumento delle prestazioni. Sulla questione della riduzione del deficit ha sottolineato che gli obiettivi previsti nel piano di rientro, approvato nel 2007, sono stati rispettati sino al 2009. Nel 2010, invece, con Chiodi commissario, c'è stata un'inversione di tendenza con un deficit salito fino a 101 milioni di euro, così come riportato nel piano operativo 2010, approvato da Chiodi stesso. Rispetto alle cliniche private ci sono ancora dei punti da chiarire, per esempio i contratti che non sono ancora stati rifirmati, quelli del 2011, le tariffe che sono state aumentate del 30% rispetto a quanto previsto dal piano di rientro. E quando si parla di recupero, di taglio del bacio delle cliniche private, in realtà non si dice la verità perché parliamo solo del recupero che c'è stato per la sospensione dell'accreditamento alla clinica Villavini. Domani, venerdì, Sinistra Ecologia e Libertà insedia cinque forum tematici, a Pescara, L'Aquila, Giulianova, Teramo e Lanciano, sui problemi dell'ambiente, della sanità, del lavoro, del welfare, dei giovani, della scuola e della cultura. In questo modo vogliamo chiamare a partecipare i nostri iscritti, i nostri simpatizzanti, chi condivide i valori della Sinistra, cercando di radicarci nel territorio per dare risposte concrete ai problemi che vivono i cittadini ogni giorno. Si è formalmente costituito oggi in Consiglio regionale il nuovo polo per l'Abruzzo. La federazione è fra i partiti dell'Udc, Fli e Api. Hanno aderito all'iniziativa i consiglieri Antonio Mena, Udc, Berardo Rabuffo e Daniela Stati, Fli, Gino Milano, Api e Luciano Terra del gruppo misto. Secondo i promotori, l'obiettivo del nuovo soggetto politico è quello di realizzare un progetto che vede accomunate esperienze politiche di comune e matrice ispirate ai valori del cattolicesimo democratico, riformiste e moderate che intendono misurarsi con le nuove sfide che la politica dei nostri giorni presenta. Il dragaggio del porto di Pescara è ancora fermo e il porto resta insabbiato. Una situazione è divenuta ormai insostenibile, sostiene il Partito Democratico Pescarese che denuncia l'incompetenza e l'incapacità di amministratori comunali e anche profili di illegittimità che potrebbero sfociare in procedimenti penali. Ennesimo rinvio dei lavori di dragaggio nel porto di Pescara e così il gruppo consigliare del PD torna a lanciare il grido d'allarme più volte sollevato affinché le istituzioni prendano provvedimenti per cercare di uscire dall'emergenza che potrebbe portare alla chiusura del porto pescarese. Nel corso di un sopralluogo il consigliere al comune di Pescara, Moreno di Pietrantonio, ha espresso le preoccupazioni del Partito Democratico in tema di dragaggio. Purtroppo novità sono solo negative, nel senso che il porto di Pescara è ancora in condizioni di grandissima emergenza, sostanzialmente sta chiudendo perché il dragaggio ha annunciato tantissime volte, a oggi come potete vedere è ancora fermo, ma soprattutto siamo preoccupati anche per le modalità di quel dragaggio che si è stato fatto per qualche giorno con una draga che ha portato alla luce solo poche migliaia di metri cubi di fanghi, molto molto poche rispetto agli 100.000 metri cubi che servirebbero e anche quando riprenderà riteniamo che non sarà assolutamente sufficiente per ridare agibilità al porto di Pescara. Siamo preoccupatissimi, tutti sono preoccupati, noi siamo qui per rimarcare di nuovo questa grande emergenza e crediamo che non sia consentito e non sia possibile che una città debba chiudere il suo porto. Noi crediamo che le istituzioni, a cominciare dal comune e dalla regione in primis, debbano intervenire in uno stato di emergenza affinché si faccia un dragaggio vero con costi adeguati perché anche i costi riteniamo che sono esorbitanti. Tre imprenditori edili della provincia di Taramo sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza per bancarotta fraudolenta patrimoniale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e ricorso abusivo al credito e contestualmente sono stati sequestrati 17 autoveicoli industriali del valore di circa 300.000 euro. L'attività è scaturita da un ordinario controllo sulla riscossione a carico di un'impresa che risultava debitrice dell'erario. Dalle indagini è emerso che l'imprenditore terramano, distraendo la quasi totalità del patrimonio aziendale ceduto simultaneamente ad altre società destori conducibili, impediva di rintracciare i beni da sottoporre a pegnoramento. Le investigazioni hanno portato alla luce che l'imprenditore, con la complicità di altri due imprenditori, aveva distratto dalle casse sociali somme in denaro per oltre un milione di euro attraverso la scrittura di falsi bilanci. L'imprenditore terramano è stato indagato anche per ricorso abusivo al credito per 320.000 euro. Avrebbe ceduto alcuni crediti a banche locali costituiti da false fatturazioni emesse nei confronti di enti pubblici ignari. Energia eolica offshore. L'argomento è stato affrontato nel corso del convegno sul progetto Powerhead che si è svolto a Pescara. Da tempo la Regione, ha dichiarato il Governatore Chiodi, si sta muovendo in questa direzione proprio nell'ottica della formazione della macroregione adriatico ionica. L'obiettivo è di lineare entro marzo 2014 le linee guida per la realizzazione di parchi eolici offshore nell'Adriatico compatibili con la politica di pianificazione e conservazione condivisa tra i 12 partner del progetto. I processi di sviluppo non possono essere più limitati ad un'area geografica circoscritta ma abbracciano territori molto più vasti. È per questo che occorre strutturare una rete di alleanze tra quelle regioni che hanno problematiche comuni su materie rilevanti come ad esempio le energie alternative o le infrastrutture. È chiara la posizione del Presidente della Regione Gianni Chiodi intervenuto questa mattina a Pescara presso il Museo delle Genti d'Abruzzo nell'ambito del convegno sul progetto Powered rientrante nel programma europeo IPA adriatico che non a caso tratta il tema della produzione di energia eolica offshore. Il progetto vede l'Abruzzo in veste di capofila di una rete composta da ben 12 partner istituzionali e uno privato ed è finalizzato a definire strategie condivise in tutti i paesi che si affacciano sull'Adriatico in particolare si punta entro marzo 2014 a delineare linee guida per la realizzazione di parchi eolici offshore nell'Adriatico compatibili con la politica di pianificazione e conservazione condivisa tra tutti i partner. Il Governatore Gianni Chiodi. Stiamo lavorando molto su quelle che sono le politiche energetiche, puntando molto sulle rinnovabili, sapendo che però le rinnovabili non potranno certamente assolvere il compito di far fronte a tutto il fabbisogno energetico che ha il paese, questo è chiaro, però vogliamo crescere e vogliamo esplorare tutte quelle strade che possano poi consentire uno sviluppo delle tecnologie in senso produttivo, quindi una maggiore efficienza. Per cui questo è un settore dove la Bruzza è capofila che riguarda il potenziale sfruttamento di quelle che sono l'energia eolica utilizzando l'offshore. Due falsi dipendenti comunali hanno derubato una donna di 77 anni nella sua abitazione di Monte Silvano. Sono riusciti a farsi aprire la porta, sono entrati in casa e mentre uno la distraeva, l'altro è entrato in camera da letto, ha individuato una scatola con i risparmi e ha rubato 4.000 euro in contanti. Il furto è stato scoperto solo dopo un paio di ore sul caso, indagano i carabinieri. Due giovani di Cupello, di cui uno minorenne, sarebbero responsabili della spaccata alle posse di via Cavurabasto avvenuta la notte tra il 17 e il 18 marzo scorsi. Secondo gli agenti del commissariato, i due ragazzi l'avrebbero fatto per noia. I vandali, che dovranno risarcire i danni, sono stati riconosciuti da un testimone che ha visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza dell'ufficio postale. Quella notte furono lesionate la vetrata delle poste e una contigua cabina telefonica. 80 case, viti vinicole e 27 aziende di produzione olio parteciperanno al Vinitaly e Sol in programma a Verona dal 7 all'11 aprile. Tutto pronto per la 45esima edizione del Vinitaly e Sol, il salone internazionale dedicato al vino e all'olio in programma dal 7 all'11 aprile a Verona. A permettere la partecipazione della Regione Abruzzo alla fiera veronese, la creazione delle società consortili di vino Abruzzo in fiera e olio nostro Sol, che ha permesso di accedere ai fondi dedicati alla promozione messi a disposizione dalla Regione nel piano di sviluppo rurale 2007-2013. A questi fondi si aggiunge il sostegno finanziario della Camera di Commercio di Chieti. L'assessore regionale all'agricoltura, Mauro Febbo. Un momento difficile, il Governo ha scelto di fare i tagli agli enti, gli enti dovevano trovarsi pronti a rispondere, lo abbiamo fatto grazie soprattutto anche alla collaborazione della Camera di Commercio, lo abbiamo fatto grazie ad un'imprenditorialità abruzzese che è salita di spessori culturalmente che ha deciso di mettersi insieme, di creare queste due società consortili, di accedere ai fondi del PSR e credo che quando la partecipazione a queste fiere sia fatta in questi livelli c'è più entusiasmo e ci sarà ancora maggior risultato rispetto anche agli altri anni, questo veramente per l'Abruzzo è importante. Una partecipazione massiccia, quella dell'Abruzzo che vedrà protagoniste 80 aziende vitivinicole, delle quali 55 all'interno del padiglione regionale e 25 al di fuori. Per il comparto olivicolo saranno 27 le aziende oleari abruzzesi. Commissario Valente, l'Abruzzo quest'anno rischiava di non partecipare al Vinitali perdendo così un'occasione ma in realtà è stato possibile grazie all'Arsa e a delle società consortili. Non potevamo far a meno partecipare perché il Vinitali rappresenta qualcosa di mondiale, tutto il mondo partecipa al Vinitali, quindi non andare vuol dire perdere anche contratti e perdere anche clientele e perdere anche una possibilità di valorizzare il nostro prodotto, specialmente per quanto riguarda l'olio che deve essere ancora valorizzato di più perché il nostro prodotto viene spesso sfruttato da altre regioni e non da noi stessi. Particolare attenzione quest'anno al settore olivicolo che in Abruzzo vanta numeri sempre crescenti. Il presidente della società consortile Olio Nostro Sol, Alberto Moruso. Abbiamo assolutamente necessità di affacciarci a questa vetrina importantissima e una prosecuzione delle presenze degli anni precedenti, comunque una presenza importante, la vetrina più importante d'Italia. Noi ci siamo presenti con il consorzio, con 14 aziende, un'azienda biologica e 13 aziende DOP. Sicuramente portiamo con il consorzio l'eccellenza dell'extravergine di oliva in Abruzzo. Ce ne sono altre 13 aziende che portano l'extravergine e basta. La pagina sportiva per il calcio, sfide decisive per le squadre abruzzesi. In Serie B il Pescara dovrà solo vincere con il Crotone, mentre nel derby di seconda divisione tra Celano e Giulianova c'è in palio una fetta di salvezza. Una sfida delicatissima quella di sabato col Pescara che dovrà restare la caduta libera, che ha infranto sogni di gloria e riproposto vecchie paure. Contro il Crotone si dovrà solo vincere. Nella consueta partita infrasettimanale si è tornati al dogmatico 4-4, 1-1 o 4-4-2, l'unico vero modulo che questa squadra ha dimostrato di poter adottare e sopportare. Lo stesso modulo che ha fatto la fortuna dei bianco-azzurri fino a poco più di un mese fa e che verrà riproposto nella prossima sfida. Contro i pitagorici mancherà lo squalificato Zanon, ma torneranno disponibili Pinna, Ariatti, Verratti e Petterini, ancora Auti, tre centrocampisti, Nico, Tognozzi e Cascione. Pochi dubbi, Mengoni, Olivia e Diamutene si contendono i due posti al centro della difesa, Verratti, Ariatti e Berardocco, i due in mediana, Delprete e Petterini sono sicuri del posto, così come Gessa e Bonanni. In avanti, in forte ascesa, le quotazioni di Maniero, stabili quelle di Sansovini, in ribasso quelle di Bucchi e Ganci, restano di scorta Soddimo e Giacomelli. Da una sfida all'altra, saltando la prima divisione che osserva la sosta, il conto alla rovescia è in seconda per Celano-Giulianova, derbi dalle forti motivazioni che vale mezza salvezza. I marsicani di Modica si presentano con tre sconfitte consecutive sul gruppone, i giuliesi di Dimeo, forti di un successo casalingo confortante, squadra i giovani, dall'età media che non supera i 23 anni e in quattro punti che le distanziano in classifica. Il Celano ordina il riscatto, il Giulianova di continuare così, le premesse sono per un grande spettacolo. Ed è tutto anche per questo appuntamento con la nostra informazione regionale, vi lascio al Meteo e Max, noi ci vediamo domani, arrivederci. Grazie.